Oggi celebriamo un fatto importante per tutta l'umanità, per gli esseri umani è stato fondamentale costruirsi delle lingue come strumenti molto flessibili per interagire tra di loro in modo diverso da un paese all'altro, da una comunità all'altra, ma anche per capire le cose, per farsi capire e le lingue sono molto diverse tra di loro. Oggi contiamo circa 7000 lingue o dialetti viventi usati nel mondo e comunità enormi, come quella cinese, araba, anglofona o piccolissime, o medie come l'italiana o piccolissime, sono molto affezionate alla propria lingua. E certo comunità molto piccole, delle volte di poche decine di persone, sono esposte al rischio di vedere sparire nei prossimi anni la loro lingua anche in conseguenza dei grandi movimenti migratori e della pressione della globalizzazione. Ma per il resto siamo così legati in ciascun paese alla nostra lingua che le profezie che sono state fatte di una sparizione delle lingue a vantaggio di una lingua unica, l'inglese tipicamente, sono profezie che abbiamo visto già in questi anni smentite dai fatti. Anzi, l'esistenza di un ombrello linguistico che consente la comunicazione commerciale o scientifica o tecnica tra persone e popoli di lingue diverse, in realtà protegge la sopravvivenza e la vita delle lingue, come abbiamo visto tante volte nella storia. Così il latino agì nell'Europa medievale e fiorirono poi le varie lingue europee liberamente e così accade oggi. Questo non va dimenticato. Noi viviamo nella nostra lingua e difficilmente la abbandoniamo per un'altra, se non per ragioni di lavoro e di servizio.